15 febbraio 2003. Circa 3 milioni di persone sfilano per le strade di Roma. Ad aprire la testa del corteo, è uno striscione per dire no alla guerra all'Iraq, senza se e senza ma. Lungo tutto il percorso sventolano le bandiere arcobaleno della pace. Per le oltre 300 associazioni che hanno organizzato la manifestazione, si tratta del più grande corteo pacifista mai verificatosi in Italia.